Grazie a tutti. Quello che ho per voi. Buongiorno. Buongiorno, Nelson. Tutto bene? Vi saluti il suo marito? Ti sentirò. Oh, buongiorno. Allora, ancora dubbi sul direttore? Il terente Colombo insegna non piacerebbe le apparenze. Buongiorno, senale. Grazie. Arrivederci. Allora è per questo che mi hai chiesto due stipendi anticipati. Beh, visto che tre non me li dava. Sono nei centri così piccoli e esiste ancora la solidarietà di una volta. Non le pare? Sì, è vero, è proprio così. È perché si conoscono tutti. A Milano, dove abitavo io, ci sono persone che vivono nello stesso palazzo e a stento si salutano. Già, me lo diceva mio fratello. Lui lavora a Milano. Ma allora siamo quasi conterranei. Beh, speriamo di conoscerci meglio e di fare quattro chiacchiere con calma così. Così almeno potrò sfruttare anch'io i vantaggi del piccolo paese. Lo trovo. Beh, io adesso devo andare. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Grazie. Beh, grazie. Sono orgoglio che ce l'ho fatto. Io rientro. Stai te. Grazie. Grazie. Scusate, ci fermiamo un attimo per il trasporto valori. Grazie. È sempre così quando arriva il film.